Aladino, chi risolve i problemi di Aladino? Lui stesso, l'uomo, te stesso, sempre la figura l'Axuanan, l'immagine umana, l'uomo, è Aladino, sempre su sabbie naturali, colori tutti naturali, l'immagine prima è venuta così come orientale Aladino, mi sembra, e quindi ci hanno fatto credere. Questi sono tutti legni che andavano a fuoco, recuperati.